buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonanotte vista l'ora ho appena finito la diretta e sono andato a prendere tre belle notiziole del gigione quindi felpettina come sempre degli amici perché è giusto farla vedere anche perché è stato uno dei pochi regali natalizi di qualche anno fa se non l'unico e quindi ci tengo particolarmente comunque partiamo subito bando alle ciance ciancio alle bande non stiamo a pettinare le orecchie e prima notizio arriva dal malawi diventa capo tribù e fa annullare 850 matrimoni di spose bambini bambine poi le rimanda a scuola gli eroi non indossano sempre un mantello e non sempre ricevono l'attenzione che meritano teresa kakin da moto è una di loro teresa è la più piccola di 12 figli e vive in un villaggio nel malawi quando è diventata capo tribù ha deciso di proibire i matrimoni infantili e di far tornare le ragazze tra i banchi di scuola il malawi è uno dei paesi più poveri del mondo secondo un'indagine svolta nel 2012 quindi ormai 7 8 anni fa più della metà della popolazione femminile si sposa prima dei 18 anni esistono numerose organizzazioni che cercano di dissuadere i genitori a far sposare le figlie così giovani ma spesso a causa della povertà le famiglie credono di non avere altra scelta teresa non si sarebbe mai aspettata di essere eletta viveva in un'altra città aveva molti fratelli e sorelle più grandi e cinque figli di cui prendersi cura ma la sua reputazione positiva l'ha fatta vincere le hanno detto che avrebbe dovuto accettare il lavoro volente o nolente ricorda teresa il matrimonio infantile una pratica culturalmente accettata in quella regione e spesso si basa su forti compensi economici anche se è stata dichiarata illegale nel 2015 ma molti genitori continuano a dare il consenso teresa era determinata a porre fine a tutto questo mentre viaggiava nella regione ha incontrato una bambina di 12 anni con il marito ai figli ha detto loro anzi ho detto loro perché la dichiarazione sua che vi piaccia o no questo matrimonio sarà annullato teresa a capo di un villaggio composto da più di 900 mila persone annullato 850 matrimoni di spose bambine e ha rimandato le ragazze a scuola quando i genitori hanno iniziato a protestare teresa si è rifiutata di ascoltarli poiché a volte è difficile cambiare la mentalità delle persone ebbene cambiare le leggi teresa ha stipulato un accordo insieme ad altri capo tribù abolendo i matrimoni tra adulti e bambini e annullando quelli già esistenti come si aspettava i genitori hanno continuato a dare in sposa le proprie bambine teresa ha licenziato i leader di quattro posti in cui i matrimoni erano ancora praticati sebbene abbia ricevuto diverse minacce di morte teresa non ha paura di niente e ha detto non mi importa dico che possiamo parlarne ma che queste bambine devono tornare a scuola ha raccontato o ha detto teresa sta anche cercando un modo per sovvenzionare l'istruzione delle bambine quando i genitori non possono permetterselo e infatti ha detto istruire le bambine istruire l'intera regione istruire il mondo ecco queste sono le storie belle che mi piace raccontare e adesso dopo una storia molto molto bella veniamo alla nostra triste italia e due dotiziole non tanto belle una fortunatamente a lieto fine ma non è tanto bella e una pessima veramente pessima del solita questione di capodanno ma veniamo andiamo per ordine perché sono due notizie del 31 12 31 12 appunto 2019 paura sulla a 26 in liguria cade il soffitto della galleria sfiorata la tragedia in autostrada all'altezza di masone il crollo fortunatamente non ha coinvolto veicoli però ha chiuso il tratto verso genoa ancora paura in autostrada in liguria dove parte del soffitto della galleria bertè sulla a 26 è crollato fortunatamente senza colpire i veicoli in transito meno male l'incidente si è verificato all'altezza di masone in direzione genova chiuso tutto il tratto fino al bivio con la a 10 genova 20 miglia in direzione voltri stando alle prime informazioni ormai di 20 giorni fa 21 oramai perché oggi è già il 21 si sarebbero staccati dei calcinacci e probabilmente il cedimento non è strutturale secondo autostrade per l'italia si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parte dell'intonaco a cui era collegata la chiusura del tratto autostradale ha già creato molte code è in corso l'installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione ma al momento è prevista l'uscita obbligatoria al casello di masone ma comunque meno male la notizia è ormai vecchia poi è arrivata naturalmente la conferma sui social del deputato ligure sergio battelli presidente della commissione per le politiche ue della camera ho appena contattato la centrale operativa della polizia stradale di genova e non ci sono dubbi scrive il grillino dalla galleria della a26 dopo masone direzione genova si è letteralmente staccato un pezzo di soffitto l'ennesimo incredibile disastro che solo per miracolo non ha provocato vittime ora basta la misura è davvero colma non possiamo pagare per l'incapicità di chi dovrebbe gestire questa tratta autostradale purtroppo qua è è un non sono solo le gallerie che crollano è tutta l'italia che sta andando come sta andando ai me sorvogliamo e meglio lo sapete che io e la politica la lasciamo fuori dalla io vi racconto i fatti poi ognuno tragga le cose che vuole veniamo alla terza notiziole siamo alle solite i botti di capodanno dramma nella notte di capodanno all'imbiate in brianza quindi abbastanza vicino a me più a milano che non ha me però comunque siamo lì un 24 anni italiano ha perso tutte le dita di una mano negli stessi istanti invece sempre a milano due ragazzini di 13 e 14 anni perdevano le mani ma veniamo a quello che è successo appunto all'imbiate secondo una prima ricostruzione il giovane stava facendo scoppiare diversi fuochi artificiali nel parcheggio della piscina in via da vinci quando per cause da accertare è rimasto gravemente ferito da un botto forse difettoso che gli esplose improvvisamente in mano dalle testimonianze risulta che alcune delle persone che erano lì con lui si sono allontanate abbandonando diversi fuochi artificiali inesplosi mentre sono alcuni si sono fermati hanno chiamato il 118 soccorso il giovane è stato trasportato d'urgenza al san gerardo di monza le sue condizioni sono serie la mano è stata purtroppo subito compromessa il 24enne infatti ha riportato l'amputazione di tutte e cinque le dita e leggere ferite al volto sul posto anche i carabinieri di limbiate per capire l'esatta dinamica dell'avvenimento i militari hanno posto sotto sequestro tutti i fuochi non ancora esplosi il 24enne aveva realizzato uno spettacolo pirotecnico con centinaia di fuochi e al momento dell'infortunio ne aveva fatti esplodere poco più di metà l'altro ingente quantitativo è stato recuperato e messo sotto sequestro da parte dei militari dell'arma ecco questo ragazzo ahimè non diciamo nulla cioè rimani senza una mano non c'è bisogno di aggiungere nulla per cosa per cosa ecco così bello le stelline i fumogenini non sono pericolosi fanno un po di fumo fanno un po di effetti pericetici niente di che e non è ai tuoi le tue cinque dita va beh dopo questa notiziola triste triste io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao